Salve ragazzi, benvenuti in un nuovo video. Oggi è un argomento che forse vi interesserà molto, specialmente se siete studenti, ma non voglio spoilerarvi troppo, lo scoprirete dopo la sigla. Sì, come vi stavo dicendo, oggi il video sarà a tema scolastico. Infatti parleremo delle applicazioni, del metodo, di come prendo appunti con il mio iPad. Ma partiamo subito. Qui ho il mio bel iPad e qui da qualche parte vi metterò la condivisione del mio schermo dell'iPad. Ma partiamo subito. Allora, questa è la schermata che utilizzo per la scuola. Subito potete vedere tre widget molto fondamentali come promemoria che mi serve in certi casi per ricordarmi le verifiche, quando mi mettono e così via. Anche se ultimamente sto utilizzando molto di più calendario. Potete vedere qui in basso dove mi segna tutte quante le materie. In questo caso domani ho filosofia in prima ora, disegno tra l'arte e poi italiano. In alto a destra invece abbiamo i file principali, quelli recenti, quelli che mi servono magari di più. Poi in alto bisogna trovare le quattro applicazioni Apple, quindi Page, Number, Keynote e Note, che le uso sì, ma ultimamente le sto usando un po' di meno. Uso specialmente Keynote per fare presentazioni, quando invece saranno nessuno di gruppo utilizzo di solito Canva. Note, una volta lo utilizzavo molto, ma ormai mi sono trasferito a altre due applicazioni che dopo vedremo. La suite di Google l'ho utilizzato ogni morto di papa, se così possiamo dire. Good Note lo andiamo a vedere dopo. Anche la suite di Microsoft non la uso proprio così tanto. Promemoria è appunto il widget. Traduci, certe volte mi serve per fare qualche traduzione al volo, magari anche per l'inglese. E poi il mio registro, che vi devo dire, non è poi chissà che, ma funziona bene sia su iPad che su iPhone e anche su Mac c'è l'applicazione. GeoGebra lo utilizzavo molto l'anno scorso, in quanto facevo molta più geometria rispetto a quest'anno, ma comunque è molto molto utile se devo tracciare dei disegni ben precisi, quindi capire proprio dove capino dei punti o meno. Per quanto riguarda i libri digitali, utilizzo queste due piattaforme, perché ho questi due libri, quelli Zanichelli e quelli Pearson, quindi bene o male quando non ho una... Quindi bene o male quando non mi sono portato il libro perché male me lo sono dimenticato, oppure perché magari non mi andava di portarlo, lo ho qui sull'iPad. Moodle è invece la piattaforma della scuola, che non mi piaceva così tanto, è meglio Google Classroom, però questa ci offrono e questa dobbiamo utilizzare. E infine Notion. Allora, mi voglio concentrare maggiormente su queste due applicazioni, ovvero GoodNotes e Notion. Io le utilizzo entrambi per prendere i miei appunti, in particolare GoodNotes l'utilizzo per scrivere, per prendere appunti appunto con la mia Apple Pencil. Qui ho organizzato tutto quanto in base alle materie, matematica è quella in cui uso di più, qui ho, ad esempio, creato un taccino con cui ho messo l'iperbole, tutti quanti i miei appunti, guardate che belli che sono. Tutti quanti i miei appunti ve li potrei vendere, no scherzo. E poi abbiamo anche geometria analitica, matematica, un po' di roba buttata là che andrà sistemata. Poi ci sono anche altre materie appunto che uso maggiormente, che sono come il fisico, per vedere quanti appunti ho preso. Di solito utilizzo la carta scura, ma ultimamente sto riscoprendo un po' la carta chiara. Quindi è un'ottima applicazione questa, infatti vi faccio un esempio, no? Se noi creiamo un nuovo documento, qui in alto possiamo trovare la nostra penna con tettivi di penna diversi, penna stilografica, quindi in base alla pressione, quindi premo di meno oppure premo di più. Poi abbiamo la penna a sfera, che è quella normale, che possiamo trovare tutti quanti, quella che usiamo ogni giorno. E poi infine abbiamo il pennarello, che è una sorta di penna stilografica, solamente un po' più grande. La gomma è molto molto utile, molto meglio rispetto a quella di note, infatti ci permette di cancellare e poi a rilascio del polpencil subito ritorna alla penna. Questa è un'opzione che appunto possiamo abilitare appunto con la diselezione automatica, oppure abbiamo anche l'opzione cancella solo evidenziatore. Ci sono anche qui tre tipi di gomma, gomma tratti, quindi c'è tutto quanto il tratto, gomma standard che cancella, sì, un minimo tratto e una precisione appunto che cancella proprio con precisione ogni tratto. Questo evidenziatore è il classico evidenziatore, ha vari colori e io ho messo che quando ottengo una linea, la fa la linea retta oppure no. Quindi in questo caso così. Le forme geometriche, vi fa una forma geometrica di quello che disegnate. Io non lo trovo molto utile, lo utilizzo di solito dalla penna normale, faccio la figura e poi tengo il muto alla fine per fare la figura che mi serve. Quindi dobbiamo fare un quadrato, farò questo. Devo fare, non so, un cerchio, faccio questo. Non mi è venuto il cerchio però, va bene così. Vabbè, non mi verrà mai il cerchio, scusate. Ok, è una guendissima, va bene così. Lo strumento Lazio che mi permette di selezionare, cambiare il colore, di ridimensionare tutta la figura. Lo potete vedere qui, anche ruotarla, oppure addirittura cancellarla. Qui abbiamo i vari diversi sticker che potete creare per avvantaggiarvi sul lavoro, oppure magari anche, vedete, questi semplici sticker, questo qua è molto simpatico. Ma io l'ho creato anche per matematica, in cui ho già gli assi cartesiani pronti, ora qui non so perché mi metto via bianco, già gli assi cartesiani pronti, quindi senza me ne metterlo ogni volta a ridisegnarli. E infine abbiamo l'immagine, se vogliamo aggiungere immagini, e il testo, se vogliamo aggiungere caselle di testo, quindi abbiamo un laser. Da poco ho aggiunta la funzione qui in alto del microfono che registra, e poi mentre scriviamo, quindi registra il momento in cui scriviamo, quindi se andiamo a risentire il nostro audio, ci farà vedere il microfono che registra, e poi mentre scriviamo, quindi registra il momento in cui scriviamo. E quindi ci fa vedere, proprio nel momento in cui quella persona parla, mentre stiamo pensando in appunti, quando l'abbiamo scritta. Funzione che a me pare è molto molto utile. Qui i colori possiamo decidere tra migliaia di colori già predefiniti, oppure addirittura personalizzati, da tutta la palette di colori. Qui invece utilizzano le varie dimensioni della penna che possiamo decidere noi stessi. E questa applicazione è molto utile se dovete esportare in PDF le vostre pagine, oppure semplicemente farle modificare a un vostro amico con la stessa applicazione, e quindi condividata nello stesso formato. Ci sono diversi modelli, uno di carta, quindi vuoto, bianco, giallo e nero. E poi abbiamo anche la carta con i puntini, con i quadretti, e così via, con le righe, e così via. Poi ci sono altri modelli, oppure anche modelli che potete scaricare direttamente da internet. Quindi è un'applicazione, secondo me, a mio parere, molto molto comoda. Notion potrebbe farci un video dedicato, in quanto è un'applicazione che, a mio parere, merita tanto. Questa è in particolare la mia home, ma la sezione che ci interessa è la sezione scuola. Qui abbiamo la subject, tutte quante le nostre materie con cui prendo appunti, poi sotto le video di interrogazioni abbiamo un calendario che è ancora più dettagliato, un po' più schematizzato rispetto a quello di pro memoria e di calendario stesso, e poi l'orario scolastico che abbiamo, appunto, che è la scuola. Per quanto riguarda l'interno delle materie, vi faccio vedere un esempio di scienze. Quindi sono solito creare questi toggle list, continuare gli argomenti dentro e poi raggrupparli. E quindi funziona un'applicazione che permette di fare tanto dal punto di vista degli appunti scritti proprio digitalmente, non con la penna. Io di solito a scuola mi porto la tassiera, la Magic Keyboard del mio vecchio iMac, perché comunque sì, è comodo scrivere dall'iPad, ma no, meglio avete una tassiera se potete. Poi se avete una Magic Keyboard, però per l'iPad è top. Dunque, poi uscirà anche un video dedicato a Notion, perché è un'applicazione che se non mi è merita molto. Infatti qui ho altre categorie che poi approfondiremo in un altro video. Quindi, siamo arrivati quasi alla fine. Utilizzo quindi queste due applicazioni per prendere i miei appunti, sia dal punto di vista Apple Pencil, sia dal punto di vista proprio scritto con tastiera. Preferirei che il tutto venisse integrato in un'unica applicazione, quindi tutto quanto in Notion. Forse i GoodNot no, ma tutto quanto in Notion, perché è un'applicazione davvero fantastica. Ma come ho detto già prima, l'approfondiremo in un altro video. Una cosa molto importante è che quando io prendo appunti dal mio iPad, quindi è stato che coloco la penna, poi magari devo studiarli, io basta che apro la mia applicazione GoodNot qui sopra, e già ce l'ho qui sopra per studiare, insomma. Ad esempio, voglio andare a riprendere l'iperbole di prima, e abbiamo le nostre iperbole di prima, eccola qui. Tutto quanto in modo facile e veloce, ovviamente. La stessa cosa abbiamo anche con Notion, anche qui tutto quanto integrato nel Cloud. Per quanto riguarda Notion, mi sembra che c'è un limite per poter importare immagini, ma comunque è molto molto efficace. Quindi, principalmente, l'iPad è per prendere appunti a scuola, poi il resto del lavoro viene svolto a cara, PowerPoint, gestione degli appunti, gestione di tutto viene svolta a cara. Ad esempio, io che devo studiare un PowerPoint, e viene fornito dal professore, vado sui miei documenti PDF, dove di solito magari ho il mio PDF, ho al minimo PowerPoint, me lo metto a fianco, e poi a fianco mi metto Notion, con una nuova pagina con cui prendere appunti. Quindi, metto il titolo, tutto quanto così. Quindi, credo di avervi detto tutto. Noi ci rivediamo a un prossimo video, mi raccomando, iscrivetevi al canale, lasciate un mi piace, e attivate specialmente la campanellina. A voi non costa nulla, ma a me fate un grande favore. Dunque, noi ci vediamo al prossimo video, sempre qui su Alex, e ciao ragazzi!